Non stabilizzazioni ma opportunità concrete per i tanti operatori precari del servizio 118 che ora potranno almeno sperare in un incarico a tempo indeterminato nel settore delle emergenze e urgenze della sanità pugliese. Così l'assessore alla salute della regione Puglia Ettore Attolini nella sua relazione in consiglio ha spiegato all'ok dell'aula il disegno di legge che ha modificato la legge regionale del 9 agosto 2006. Alcuni di questi operatori non avevano questi titoli con questa legge noi saniamo ma non nel senso che stabilizziamo, consentiamo anche a questi operatori di partecipare la graduatoria, di essere inseriti nei graduatori. Per quanto riguarda gli altri punti all'ordine del giorno sia l'unanimità la legge che disciplina la procedura di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale mentre qualche scintilla in apertura di seduta è scoccata sul provvedimento che riguardava gli interventi a favore dei pugliesi nel mondo, punto su cui la maggioranza di centro-sinistra è andata sotto 24 a 20. Nulla di particolare contro l'istituzione della Fondazione Casa Puglia, il DDL infatti tornerà presto in aula, ma un segnale forte da parte del centro-destra per richiamare all'ordine i tanti consiglieri e assessori assenti che da tempo sembrano snobbare gli impegni del parlamentino regionale.